Il pittore inglese Albert Chevalier Taylor nel corso della sua carriera si è specializzato nelle scene di genere come questa che vedete qui rappresentata. L'artista si formò alla Royal Academy di Londra ma il suo punto di riferimento rimase sempre la Francia e in particolar modo l'impressionismo. Taylor applicò spesso la tecnica dell'en plein air ovvero della pittura diretta all'aria aperta copiando i soggetti fuori dallo studio. Il suo dipinto l'albero di Natale realizzato nel 1911 e oggi conservato in una collezione privata presenta una semplice scena in famiglia. Grandi e piccini sono tutti attorno al proprio albero di Natale e dall'atmosfera allegra possiamo facilmente intuire che ci troviamo a ridosso del Natale forse proprio alla vigilia. Vediamo un cavallo giocattolo che viene tirato dal bambino sulla sinistra e forse si tratta già di un regalo natalizio. Un uomo seduto fuma una pipa e osserva la scena bonariamente. Sul fondo la madre con un bambino tra le braccia. La finestra apre il nostro sguardo su un giardino di cui intravediamo gli alberi dai rami spogli. Il cielo è scuro e probabilmente siamo all'imbrunire. Notate quanta attenzione abbia messo Tyler nella realizzazione delle luci dell'albero. Si tratta di una miriade di candele che rischiarano con il loro tenue barlume i volti dei numerosi bambini che lo circondano. Gli sguardi sono estasiati dalla magia di quello che è il simbolo natalizio per eccellenza. Ne risulta un'atmosfera lieta resa concretamente anche dalle espressioni sorridenti e dalla molta felicità che traspare in ogni dettaglio. Tyler ha saputo fissare sulla tela le sensazioni del Natale. E con questa cartolina speciale con questo audio quadro speciale auguro a tutti voi buone feste. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.